la nascita del monoteismo cari amici la nascita del monoteismo e i dieci comandamenti ecco qua una delle opere più belle di sigmund freud fu l'ultima opera della sua vita fu il suo canto del cigno fece a tempo a concluderla prima di morire si era ammalato a vienna poi siamo nel terzo Reich egli ottiene l'autorizzazione ad abbandonare l'Austria e va a Parigi poi va a Londra a Londra termina di scrivere questa opera e poi muore dio quanto è bella quest'opera cari amici vedete l'uomo Mosè la nascita del monoteismo beh Mosè qua c'è scritto qua c'è scritto cari amici dovete leggerla anche voi questa opera e Mosè era un principe egizio forse era il figlio del grande faraone Amenofi IV a Kenaton Amenofi IV a Kenaton il grande faraone Amenofi IV a Kenaton visse tra il 1400 e 1350 avanti Cristo egli creò in Egitto il monoteismo e qua c'è scritto il titolo vedete l'uomo Mosè e la religione monoteistica e sono cose che io spiego ampiamente in un contesto più ampio nella mia opera la stirpe del serpente dove si si spiega come è avvenuto il passaggio dal matriarcato al patriarcato e il monoteismo è uno dei cardini del 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 patriarcato poi ci sono i dieci comandamenti i dieci comandamenti di Mosè dell'unico dio Yahweh che è stato ereditato dal dio egizio Aton il dio egizio del faraone Akenaton Amenofi IV e c'è l'inno al sole c'è l'inno al sole di questo grande faraone Amenofi IV o Akenaton l'inno al sole cari l'inno che è bello che è l'inno al sole tu ti ergi glorioso ai bordi del cielo o vivente Aton tu da cui nacque ogni vita viaggi al di sopra delle terre che hai creato abbracciandole nei tuoi raggi tenendole strette per il tuo amato figlio anche se sei lontano i tuoi raggi sono sulla terra anche se riempi gli occhi degli uomini le tue impronte non si vedono e continua e continua questo inno al sole del supremo faraone Amenofi IV e Akenaton o Akenaton e poi 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 però quando Akenaton morì i sacerdoti delle varie delle mille divinità egizie che erano stati spodestati spinsero il popolo a ribellarsi contro il monoteismo e ci fu una grande distruzione venne distrutto tutto in Egitto e queste cose voi le potete vedere raccontate in quel celeberrimo romanzo che è Sinuel Egiziano e dal romanzo Sinuel Egiziano ambientato proprio in questo periodo 1400 avanti Cristo e 1350 avanti Cristo poi da questo romanzo è stato tratto l'omonimo film Sinuel Egiziano e i sacerdoti aizzano il popolo a ribellarsi contro la religione monoteistica e l'Egitto precipita nel caos per cui Mosè che era o figlio del faraone Amenofi IV fu un grande sacerdote del monoteismo Mosè assieme agli altri sacerdoti della religione monoteistica i Leviti decisero di tagliare la corda tagliare la corda di scappare si recarono al nord nel delta del Nilo dove c'era un popolo di pastori popolo ebraico e convinsero questo popolo di pastori a seguirli verso quella che loro chiamarono la terra promessa la Palestina ecco cari amici il monoteismo distrutto in Egitto ma portato in salvo dall'Egizio Mosè e dai suoi sacerdoti i Leviti poi venne adottato dal popolo ebraico venne portato in Palestina terra di Israele e lì crebbe fortissimo fortissimo e tutto è descritto nel Vecchio Testamento e in primis nel primo libro del Vecchio Testamento il libro Genesi beh insomma le basi del patriarcato sono tutte qua e io come è avvenuto il passaggio dal matriarcato al patriarcato come è avvenuto l'ho descritto in questa mia opera storico-mitologica e questa opera storico-mitologica ora vola nelle librerie perché spiega com'era il matriarcato e com'è strutturato il patriarcato nel quale noi viviamo ok cari amici per cui a tutti tanti cari saluti dalla stirpe del serpente ok 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 grazie a tutti